Oggi ci troviamo al Buon Pastore, proseguendo nel nostro tour del municipio XII di Roma. Quello che innanzitutto denunciamo è il generale degrado urbano, che caratterizza questa periferia romana. Per non parlare del piano periferie che non è stato realizzato per riqualificare il complesso del Buon Pastore. Come coalizione centrodestra ci impegniamo a prenderci cura di questo territorio. Prosegue il nostro tour, noi ci siamo.